La carezza di Papa Francesco è questa volta per i sacerdoti anziani e in difficoltà. Nell'ambito delle iniziative giubilari dei Venerdì della Misericordia, il Pontefice si è arrecato in due comunità alla periferia di Roma. La prima, Monte Tabor, ospita otto sacerdoti provenienti da varie diocesi sofferenti per diverse forme di disagio. Con loro il Papa ha pregato nella piccola cappella della struttura. Successivamente la visita a Casa San Gaetano, meglio conosciuta come i Cento Predi. Si tratta di una comunità che accoglie i sacerdoti anziani della diocesi di Roma, ma anche alcuni religiosi. Attualmente sono 21 gli ospiti, tra di loro ci sono persone molto malate, solitamente assistite da tre suore, ma anche da altro personale. Con questa visita, riferisce una nota della Sala Stampa Vaticana, il Papa ha voluto dimostrare ad ognuno il suo affetto concreto e cordialissimo, ricco di consolazione, e ha dato ancora una volta un esempio efficace di misericordia, attenzione e gratitudine a tutta la comunità di Roma e alla Chiesa.